sono guido brera e questo è un podcast di cora media si chiama black box la scatola nera della finanza buongiorno oggi puntata speciale di black box io sono simone pieranni e per questa occasione appunto un po particolare farò delle domande a guido brera che è l'host di questo podcast ma la puntata di oggi nasce da una notizia che probabilmente molti di voi avranno visto cioè un calo un tonfo clamoroso delle borse soprattutto quelle asiatiche quindi abbiamo ritenuto necessario precisare alcuni aspetti e provare a raccontare cosa sta succedendo quindi intanto guido benvenuto ciao simone ciao a tutti per prima cosa ti chiederei di spiegarci che cosa sta succedendo cioè a che cosa è dovuto questo crollo delle borse specie il lato asiatico delle borse è difficile rispondere io mi voglio aiutare portandomi un po più facendo un po di zoom out allora è successo che è crollato il nick è perso più del 12 per cento che l'indice giapponese ed è venuto giù anche appunto il nasdaq la tecnologia cosa è successo allora facciamo un esempio prendiamo tre grandi protagonisti di questo mercato negli ultimi quattro anni dal covid in poi uno l'ho raccontato anche nella serie diavoli la fine di diavoli 2 cioè il gruppo di tutti quelli che hanno preso le sovvenzioni che hanno fatto di quelle sovvenzioni alcuni un uso non necessariamente improprio però hanno tra virgolette scommesso in borsa non mi riferisco al popolo dei risparmiatori quelli che si servono di intermediari qualificati ma proprio a quelli che a un certo punto sono diventati dei trader dei trader non dei trader cioè ogni giorno il loro lavoro è cercare di guadagnare in borsa questo è un gruppo di persone e poi su questo ci torniamo dopo perché loro sono stati uno dei protagonisti di questo enorme rialzo soprattutto della tecnologia di alcuni mercati un altro gruppo sono i fondi tradizionali che ovviamente beneficiano delle inefficienze di mercato per esempio abbiamo avuto e qui mi ricollego a stanotte tassi di interesse prossimi allo zero in giappone e quindi tutti i fondi hanno cercato di si dice fare carry trade che cosa vuol dire carry trade vuol dire che si sono indebitati a tassi praticamente nulli grazie alla politica monetaria giapponese quindi si sono indebitati yen e pagando tassi interessi bassissimi hanno comprato il resto del mondo quindi non solo il nickey ma soprattutto il nickey ma anche altri mercati beneficiando di tassi interesse praticamente nulli cioè nell'unico paese che offriva questa opportunità di tassi interesse prossimi allo zero poi c'è un terzo gruppo che sono le macchine cioè i fondi sistemici gli algoritmi gli algoritmi seguono imparano però possono imparare dal primo gruppo possono imparare dal secondo possono leggere i mercati nel senso che hanno visto che la volatilità cioè l'indice se volete di rischio dei mercati è stato si dice multi year low cioè ai minimi degli ultimi anni e quindi loro hanno incrementato le posizioni di rischio perché leggevano che c'era poco rischio hanno incrementato alcune posizioni perché leggevano che alcuni degli altri due gruppi compravano quelle posizioni gli algoritmi spesso sono un po' si dice amici del trend cioè seguono un po' il trend imparano dagli altri e hanno imparato un po' dai fondi tradizionali e un po' dai grandi diciamo da quel grande gruppo di day trader che sono cresciuti ecco secondo me lì si è creata un po' una piccola nitroglicerina cioè lì veramente siamo arrivati poi all'esplosione perché è bastato poco dati che preoccupavano sulla crescita americana tensioni geopolitiche volatilità che è cominciata a salire e di botto tutti e tre i gruppi hanno fatto si chiama deleveraging cioè hanno smontato le loro posizioni che hanno accumulato negli ultimi quattro anni guido ti chiederei un'altra cosa perché insomma leggendo un po' le notizie sui media rispetto a quello che sta accadendo mi sembra che vengano messe insieme alcune cose l'andamento ad esempio dell'economia americana che viene considerata in questo momento a rischio recessione e si parla di stagflazione ci puoi spiegare perché in questo momento si tirano fuori questi termini io ho fatto una scommessa di recente qualche mio amico dico vedrete e si parlerà di stagflazione ovvero l'inflazione ancora alta con una crescita praticamente nulla o negativa l'america ha tirato tantissimo ha fatto una politica fiscale molto espansiva credo abbia messo un trilione di debito ogni cento giorni e quindi e c'erano dei rallentamenti i due a vedere ma d'altronde non possiamo crescere costantemente ogni trimestre dall'altro lato l'inflazione si dice è un po' difficile da battere perché vedi il mondo è cambiato quindi ci sono delle frizioni inflattive la paura dei dazi l'on-shoring cioè riportare le produzioni vicino diciamo al proprio paese si dice near-shoring o friend-shoring cioè un paese amico o comunque on-shoring proprio nel paese stesso gli adeguamenti salariali che erano fermi negli ultimi 15 anni citevo sempre il caso dei corrieri UPS che hanno avuto un adeguamento salariale infatti poi il titolo è sceso moltissimo gli hanno rivisto credo i salari erano portati a 200 mila dollari perché non gli ritoccavano da 20 anni quindi il mondo che cambia lascia degli frisi inflattivi inevitabili quindi l'inflazione a un certo punto diventa incomprimibile e quando poi manca la crescita vivi in un mondo dove c'è il rischio e quello è terrificante per i mercati di crescita nulla o zero o addirittura negativa e un'inflazione che non riesce a comprimere ti faccio una domanda un po' provocatoria perché in tutto questo noi osserviamo però una crescita dei profitti delle grandi aziende e quindi com'è che questo non si traduce poi in potere d'acquisto per le persone beh perché Simone qui arrivi al punto di cui noi parliamo io e te da 15 anni cioè del famoso sgocciolamento a terra non c'è nel senso che tu ti prendi un grafico no della produttività dell'aumento della produttività negli ultimi 20 anni da quando è partita la globalizzazione quindi 25 anni dal 2000 la Cina entra nel WTO e ci attacchi sopra il grafico dei salari medi anzertutto vedi anzi fatti un grafico a 50 anni produttività da un lato e salari medi dall'altro vedi che la produttività ha sempre eseguito i salari medi fino al 2000 poi i salari medi dal 2000 sono presente flat cioè sono piatti e la produttività ha cominciato a salire perché è stato costruito un mondo che è riuscito a favorire le grandi piattaforme che potevano fare magari ottimizzazioni fiscali o anche arbitraggi sul costo del lavoro andavano a produrre fuori semplicemente e quindi di conseguenza lo sgocciolamento famoso non è avvenuto perché le regole sono state tali per cui che hanno favorito ovviamente la sofisticazione finanziaria e le grandi aziende chi ha potuto esportare la produzione e quindi beneficiare i salari molto molto bassi per esempio in Cina ha aumentato immediatamente la produttività e se a questo ci aggiungevi anche magari un'ottimizzazione fiscale quindi levare il costo del lavoro e il costo fiscale ecco che la produttività esplode ma poi la ricaduta a terra se una società paga meno tasse o paga i lavoratori li paga in un paese dove dove tutto costa meno è chiaro che lo sgocciolamento non arriva senti Guido ti farei una domanda più macroeconomica rispetto alla crisi finanziaria da cui siamo partiti cioè siamo in una situazione globale come sappiamo di grandi crisi internazionali e in questo momento abbiamo anche gli Stati Uniti che sono la principale comunque potenza economica e geopolitica anche del mondo attesi da sei mesi con un presidente uscente quindi percepiti anche probabilmente quindi come più deboli rispetto al passato ti vorrei chiedere qual è il risultato l'esito poi nel mondo che vediamo quotidianamente di queste crisi finanziarie dove dobbiamo andare a cercare poi nello specifico una sua ricaduta cosa dobbiamo osservare per capire quali sono appunto poi gli effetti reali sulla nostra vita di queste crisi ti rispondo subito abbiamo fatto un mondo molto sofisticato dove tutto è connesso dove ancora noi parliamo che la globalizzazione è finita ma i mercati dei capitali no per fortuna i mercati dei capitali sono connessi e quindi basta poco vedere non so la fed che comincia a dire taglio i tassi e la banca del giappone che comincia a dire no io li alzo e allora quello che aveva il debito in yen si era indebitato a tassi a zero subito smonta il debito e quindi quando smonta il debito vuol dire che tu vuoi restituire i soldi e poi vendi gli asset che avevi acquistato grazie a quel debito e però sono troppi cioè il tema è che i flussi di capitale sono diventati giganteschi e quindi se tutto avviene in maniera velocissima rapidissima è un mondo che diventa veramente difficile a governare e difficile a sostenere quindi di nuovo devono intervenire le banche centrali per salvare diciamo l'anarchia totale dei capitali è molto complicato il tutto ed è molto interconnesso è molto sofisticato e basta un minimo sfriso sulla crescita sui cosiddetti dati sul lavoro e sull'occupazione americana da causare decisioni che poi sono invece muovono centinaia e centinaia di miliardi di dollari bene ritornerei ai protagonisti da cui siamo partiti cioè i tre attori tre gruppi di cui abbiamo parlato all'inizio come si comporteranno adesso e quali saranno le loro mosse allora guarda com'è strana la cosa lo stato da dei sussidi io mi sono sempre chiesto ma è meglio dare i sussidi in denaro magari regalare delle ammissioni a delle università ivy league fare una mammografia il giorno dopo cioè dei bonus su sanità privata che funziona meglio la sanità pubblica purtroppo oppure comunque investire moltissimo nei cosiddetti diritti sociali che sono i veri punti e anzi i veri punti verso il futuro no quindi mi sono sempre chiesto è meglio dare i soldi in tasca alle persone dire fate quello che volete oppure magari guidarle e questo è un po' il dilemma del grande inquisitore i dostoieschi no cioè la libertà darla a tutti conviene o non conviene insomma comunque è stata fatta una scelta di dare sussidi a pioggia e molti sono diventati scommettitori perché non avevano alternativa cioè non c'era un tessuto che li preparava verso diciamo una via imprenditoriale no allora è nato rorinchitti rorinchitti simone tu non sai chi è lo sai chi è rorinchitti no ecco però è molto famoso ed è bello che tu non lo sappia perché se no mi avresti preoccupato ma è un signore che dice i titoli da comprare ogni giorno e quei titoli salgono magicamente salgono è un signore che ha un blog quello che è e dice oggi compro questo allora quello è il popolo dei day trader cioè seguono i titoli non credo su basi fondamentali ma più sul fatto se gli piacciono o meno se gli piace quello che fanno scordandosi del valore e questo è la prima il primo gruppo poi il secondo gruppo che sono i fondi cosiddetti tradizionali quelli che fanno anche il mio lavoro guadagnano sulle inefficienze e quindi appunto mi indebito dove i tassi sono a zero e compro e seguo i trend di mercato e lì c'è stata un'anomalia tassi a zero io ho sempre detto sono sempre stato a lungo periodo sono una droga che entra nelle vene del corpo e secondo me fa molto male la banca del giappone li ha tenuti a zero per troppo tempo decisamente e quindi ha permesso questo cosiddetto carry trade mi indebito a zero e compro il resto del mondo e poi il terzo gruppo sono e questo è molto interessante le macchine che seguono magari i roaring kitty perché loro non sanno che dietro roaring kitty c'è un signore che ha un esercito di follower che comprano titoli in base non ai fondamentali ma qualcosa è molto irrazionale capisci la cosa assurda cioè le macchine seguono a volte attori non molto esperti e non sanno distinguere se dietro c'è roaring kitty o c'è un grande fondo che ha dei ragionamenti più sofisticati ora non faccio nessun tipo di aristocrazia finanziaria magari roaring kitty ci capisce meglio di un qualunque gestore però la somma di tutto questo fa sì che poi c'è il terzo attore che sono i cosiddetti fondi sistematici che si basano sugli algoritmi che magari leggono che nel mercato non c'è rischio perché la volatilità è i minimi negli ultimi quattro anni sai quanto ha fatto la volatilità in un giorno ha fatto più 70 per cento noi oggi abbiamo avuto lo spike più alto di volatilità della storia a parte il covid o insieme al covid ecco questo magma io te lo so leggere però e poi da qui bisogna districarsi senti a parte che sono andato a vedermi il canale youtube di roaring kitty e ho visto anche parecchie notizie sui media di suoi acquisti clamorosi eccetera chiuderei con una domanda perché in giappone si parla della crisi più clamorosa dal 1987 e quindi la mia domanda forse è un po banale perdonami ma siamo di fronte a una crisi come tante tra l'altro ne abbiamo già viste parecchie proprio ad agosto ricordo un po di anni fa ad esempio il crollo della borsa a shanghai e come dire quindi non ci siamo sentiti all'epoca su black box ma ci siamo sentiti per parlarne quindi ti chiederai siamo di fronte a crisi sistemiche cioè c'è effettivamente qualcosa che non sta funzionando o sono crisi improvvise legate a un momento specifico particolare ma guarda io credo che siamo in un'epoca delle multi crisi cioè per me c'è un'unica grande crisi che un po dal 2000 a legge che ha fatto il problema del supreme poi il problema dei debiti sovrani poi il problema della grecia e poi il problema di shanghai ecco il mondo è iper finanziarizzato secondo me non fa bene noi dobbiamo tornare a una finanza che investe nell'economia reale la finanza è uno cinghia di trasmissione che deve portare i soldi a chi ha le idee giuste quella è la finanza buona poi c'è una finanza che è tutta la finanziarizzazione che c'è sopra che è diventata eccessiva e crea ogni tanto questi problemi il vero tema è che poi le soluzioni a queste crisi sono sempre le stesse cioè le banche centrali che ci devono mettere una pezza emissioni ecco poi emetti o stampi debito pubblico o espandi la politica fiscale ci sarà un tema dei debiti pubblici con la crescita che batte in testa no quindi credo che abbiamo sempre utilizzato degli strumenti sempre uguali per risolvere sempre crisi derivanti gli strumenti derivanti dall'utilizzo di quegli stessi strumenti in fondo scusa qui chiudo cioè lo stato dà i sussidi con quei sussidi la gente compra azioni anziché magari investirli in cose che possono dare più ritorni virtuosi su preoccupazione eccetera eccetera gli investimenti di rorinchitti causano per tanto tempo un abbassamento della volatilità e allora i fondi sistemici leggono questo come assenza di rischio e comprano e insieme ai fondi sistemici c'è una banca centrale che tiene tassi a zero allora i fondi tradizionali si indebitano con quei tassi a zero e comprano anche loro magari quello che sta comprando rorinchitti poi a un certo punto uno vende warren buffett non so che un investitore estremamente razionale decide di dimensare la posizione in apple i fondi che siano indebitati yen cominciano a smontare le loro posizioni rorinchitti prova a vendere però oggi robin hood che è la piattaforma dove lavora rorinchitti è chiusa la chiudono per 24 ore per eccesso di volatilità quindi loro rimangono tutti poi dentro che non possono vendere insomma è un mondo abbastanza complicato forse dovremmo fare un'altra puntata di aggiornamento sì è un mondo complicato ma anche molto affascinante anche proprio per le conseguenze che ha e su quel ruolo di cinghia di trasmissione di cui parlavi che mi sembra che sia un po saltato sicuramente si dovrà tornare a parlare bene guido ti ringrazio intanto per le spiegazioni ci hai chiarito moltissimi aspetti e naturalmente insomma siamo disponibili e pronti a risentirci per aggiornare oppure magari per spiegare come si è conclusa o per capire diciamo cosa potrà succedere in futuro quindi grazie guido e buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici grazie black box è un podcast di cora news prodotto da cora media scritto da guido brera con i diavoli la cura editoriale è di francesca milano la sigla il sound design sono di luca michelli la post produzione il montaggio sono di luca michelli e mattia liciotti il producer è alex peverengo